La fuga Cattivi Correte scimmie Correte che questi lanciano Aia Ma mi ha colpito La scimmia o sono E così va meglio Aia Corri Presa ok E' la fine E' la fine Ok Dai almeno un altro checkpoint Se prendiamo un altro checkpoint Siamo al sicuro E lo No lo sapevo Scusate è stato molto divertente Lo sapevo che quella scimmia mi sarebbe passata davanti Però perlomeno Morire ti fa ricominciare Dal punto dove hai preso il checkpoint E ti fa prendere tutte le monete Che hai lasciato indietro Guarda che stronza Si muove a destra e a sinistra apposta per darci fastidio Quella stronza Comunque Se devi prenderti Tutte le lettere Tutti i disegni Tutte le monete No ok Questo livello è comunque lungo Cioè alla fine Devi Prenderti Tutte le lettere del nome E tutti i disegni Comunque Comunque Un pezzo in più Il cocco Te lo devi fare Però a parte il fatto che Esatto Le scimmie Ci hanno Messo i bastoni tra le ruote Per il resto Siamo andati Decentemente Cioè se non era per la scimmia Non morivamo Sappiatelo Corri Vedi a tirarsela troppo Poi finisce Che viene schiacciato da degli elefanti Vai 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 Ok In teoria non so se Esatto Non so se fare quella curva Ci avrebbe fatto finire sotto gli elefanti Però così Ci manca solo una lettera In ogni caso Abbiamo perso La vita che avevamo appena recuperato Siamo a 8 Vabbè fino ad ora Abbiamo perso Solo una vita E l'abbiamo persa adesso Quindi Non mi Lamento neanche troppo Ci manca una lettera Di nuovo Queste scimmie Sempre nella stessa posizione Sempre loro due Vai 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 Dov'è Ok no forse era Ah certo Perché è il pezzo Che avevamo visto prima Ecco perché C'erano le scimmie Nel pezzo Nello stesso pezzo Attenzione No Non mi sembra che quella liana Fosse visitabile No 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 Anche perché la lettera L'avevamo trovata qua E infatti Adesso Appaiono di nuovo Le monete 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 che tra l'altro Purtroppo Qualcuna ne abbiamo persa Purtroppo Attenzione Eh attenzione Devi fare tu Attenzione a sti stronzi Che ti tagliano la strada Altro che Maledetti E ora si butta Di sotto Ah no Pensavo ci fosse La cascata Dove si buttava Di nuovo Beh dai A parte qualche moneta Sparsa un po' così A cacchio di cane Comunque abbiamo Fatto un buon livello Abbiamo preso Tutte le Le lettere Tutti i disegni Non mi posso lamentare Vediamo 97% Eh comunque Non è male Continuiamo Andiamo a farci Il livello bonus Dopo il filmato A cavallo di una cicogna Di nuovo Tra l'altro Sai che Adesso Dopo di questo Dovrebbero essere finiti I livelli da bambino I prossimi Sono lui da Adulto Sì però A rigor di logica Non penso neanche Che lui Sia letteralmente Adulto Nel Più avanti Nel film Penso A occhio Eh Proprio Anche solamente A logica Che sia Te la butto lì 18 anni Aia 18enne forse 20 No Non mi sembra Anche se vabbè I personaggi disney Hanno sempre quest'età Un po' Diciamo Un po' dubbiosa A volte Comunque Dicevo In teoria Secondo Come ha fatto a fare un altro salto Dove si è appoggiato Dicevo In teoria Secondo me Dovrebbe Essere Sulla ventina D'anni Non di più Sempre Dovuto Alla dubbia Età Dei personaggi Disney Ecco fatto Dai un po' di monete Le abbiamo racimolate Tanto sti livelli Sono sempre un plus Noi diciamo che Sì Se li facciamo Ma giusto perché Ce li abbiamo Ci abbiamo guadagnato Quanto? Una vita? Siamo a Quante monete? E dai 58 Al prossimo giro Un'altra vita